Un'iniezione di risorse per sostenere le tante e tantissime attività di cui beneficiano quotidianamente i ragazzi della Fondazione Ti Amo e le loro famiglie, a titolo completamente gratuito. A questo saranno destinate le donazioni raccolte lo scorso 8 maggio, in occasione della tappa del Giro d'Italia a Torre del Lago, nel corso del Carovana Party, organizzato grazie alla collaborazione tra Comune di Viareggio e iCare. Noi diamo il nostro modesto contributo, abbiamo fatto un'operazione per donare a tante associazioni, fra i quali la Fondazione Ti Amo, un po' di risorse all'interno di un progetto più ampio fatto con l'amministrazione comunale. Una donazione di qualche migliaia di euro festeggiata dalla Fondazione nella sua sede. Questo centro qui è a disposizione della comunità delle famiglie, con i ragazzi vengono qua, abbiamo fatto il centro di onoterapia, abbiamo l'orto sociale e abbiamo un laboratorio di carta pesta. L'obiettivo di questa cosa è di dare questo luogo alla progettualità, ai ragazzi, alle famiglie. Una gioia per gli utenti ma anche per chi tanto si prodiga per loro. Sono soldi che sono utilizzati benissimo per poter realizzare dei miglioramenti con le nostre terapie ricreative che ne godiamo noi.